16 spettatori, in diretta dal Teatro Addison di Sanremo al primo appuntamento, ripetizione del festival della canzone italiana Non se ne può più di Sanremo Facciamo così Do spesso Problema è che non ho ritornello C'è un virus dentro me e non so neanche il perché È una strana sensazione, forse un male di stagione Soluzione non ce n'è, questo virus fa per te Ho trovato un alambicco, il ritornello io ci picco Ho aperto il mio blog, ci ho trovato un po' di grog Ho lanciato un anti-spam, ci è passato sto pretram Questo è un vero tormentone, ho trovato il rimedione Aia, ciao Aia, ciao